...decidesse in positivo, nel senso che ricomincia a comprare, probabilmente il problema si risolve, fantomeno il problema della borsa. C'è in effetti, certo, un discorso psicologico, ma è il timore, la paura, ma soprattutto, io direi, l'incertezza di questa situazione. Siamo continuamente bombardati da mille notizie, da mille informazioni che ci mettono in stato di agitazione. Ci vorrebbe un qualcosa che faccia invertire la rotta. Quando si riprende la fiducia, poi il problema si risolve. Perché, ripeto, i fondamentali del nostro paese ci sono e sono positivi. Dobbiamo prendere delle misure coraggiose, impopolari. Se noi facciamo questo, io sono convinto che in poco tempo si ritorna... Ecco, tocca un punto interessante. Secondo lei, l'imprenditore marchigiano reagisce a questo stato di cose? Non aspetta altro, secondo me. Non aspetta altro che di reagire. Ha un unico limite il nostro imprenditore marchigiano. che è molto, forse abbiamo detto altre volte, individualista. Lo sforzo che deve fare il nostro imprenditore è quello di essere meno individualista e di lavorare insieme. Perché deve andare per forza sui mercati internazionali. È lì che si cresce. Se rimane un problema di gelosia, di individualismo, effettivamente noi siamo più deboli. Però il potere, diciamo, della forza, della capacità del nostro imprenditore c'è, c'è tutto. Ha bisogno solo che il paese li metta in condizione di ricominciare a credere nel paese, a investire qui, a fare occupazione qui, a non delocalizzare l'attività produttiva. Questo dobbiamo fare. Secondo lei la gente ha ancora fiducia delle banche? Ma sa, le banche sono sempre viste, no, in maniera, con sospetto. Io credo che abbiano fiducia. Non ne nascondo che in questi giorni qualcuno chiede, ma farò bene a depositare i miei risparmi in banca? Io dico, ma certamente sì, non ci facciamo prendere dal panico. Io dico di più, e mi permetta di dirlo, noi facciamo bene ancora a investire nei titoli di Stato. Dobbiamo investire nei titoli di Stato del nostro paese. Non dobbiamo, perché nel momento in cui noi, ma io direi tutti gli investitori, vendono anziché comprare, deprimono quel titolo, costringono lo Stato a emettere titoli sempre più costosi, a tassi sempre più alti, noi dobbiamo avere fiducia nel nostro paese e continuare a tenere in portafoglio, se ce l'abbiamo a comprare, titoli di Stato, obbligazioni delle banche, credere nel nostro paese. Io credo che questo sia il messaggio che noi dobbiamo darci. Il marchigiano rispetta il mutuo, la scadenza del mutuo? Certo, certo. Il marchigiano, come lei sa, siamo un popolo di persone serie. È vero. Che di fronte alle difficoltà ci arrampichiamo sugli specchi. L'abbiamo dimostrato molte volte. Chiaro che poi di fronte all'impossibile nessuno fa miracoli, però devo dire che nel campo dei privati le insolvenze sono ancora modeste, un po' di più chiaramente nel settore dell'impresa. Il salto dell'IVA dal 20 al 21% ha portato a qualche conseguenza negativa? Ma io direi, certo, sui consumi qualche impatto potrà averlo, ma non è questo che tiene bassi i consumi del nostro paese. I consumi sono bassi perché, il consumo e gli investimenti, perché l'italiano non è sicuro del futuro. Quindi quando uno non è sicuro del futuro si tiene da una parte risparmi, non investe, non compra casa, spende il meno possibile, cerca di risparmiare. D'altra parte sappiamo come vanno le cose in termini di occupazione, come vanno le cose purtroppo in termini di occupazione dei nostri figli, dei nostri giovani. Quindi è chiaro che se le situazioni sono queste, non è il punto dell'IVA che penalizza la situazione, il problema è risolvere questi problemi, dare prospettiva alla gente. Adesso lei che dirige una grande banca e lei è in una grande posizione di giudizio, lei richiede un giudizio. Le banche locali, quelle piccole banche, hanno una funzione? Assolutamente sì. Io penso per esempio alle banche di giudizio cooperativo, penso alle banche anche piccole, medie. Io dico, penso anche a noi, anche noi che facciamo parte di un gruppo, comunque siamo una piccola banca. Sono fondamentali. Le BCC in particolare hanno svolto durante la crisi un ruolo secondo me molto molto importante. Devono chiaramente stare attenti, come tutti noi, a mantenerci in equilibrio perché ovviamente non faccio per difendere la categoria, ma le assicuro che in questi tre anni, quattro di crisi dura, le sofferenze e le perdite hanno raggiunto veramente livelli molto molto consistenti. Senta, com'è la situazione dell'edilizia? Vi sente molto della crisi? Molto, certamente molto. Direi non come in altri paesi, pensiamo alla Spagna dove è completamente fuori da ogni logica. Qui da noi però le vendite si sono molto rallentate, soprattutto in certe zone e non ne nascondo che alcuni imprenditori hanno qualche difficoltà. Noi, il sistema bancario in generale, stiamo cercando di aiutare gli imprenditori del settore allungando i loro debiti, trasformando i debiti a breve in debiti più lunghi in modo tale da dargli tempo di far riprendere il mercato. E non neghiamo i mutui ai privati, alle famiglie, a chi vuole comprare l'appartamento. È chiaro che rispetto al passato dove tutti eravamo un po' più fiduciosi, oggi anche al privato che chiede un mutuo andiamo a vedere se ha un reddito che gli dà la capacità poi di rimborsarlo quel mutuo, perché è inutile dare un mutuo a uno che poi non ce la fa e deve togliersi il pane da bocca. Quindi maggiore attenzione da parte nostra. Questo può far pensare a qualcuno che magari abbiamo un po' allungato i tempi, siamo diventati un po' più rigidi, però ecco in certi momenti ci vuole anche un minimo di capacità in più. Questa quasi totale assenza del governo centrale sui problemi nostri, il fatto che le marche abbiano ricevuto l'87% o meno dei contributi statali eccetera, è una conseguenza grossa, forte, negativa. Non c'è dubbio, è un problema veramente grave. D'altra parte dobbiamo dire che il governo centrale tutto sommato ha fatto bene in questi anni a non allargare i cordoni della borsa perché il debito è già molto alto. Fatto sta che le regioni, gli enti locali hanno una situazione di obiettiva difficoltà e lì bisogna trovare il modo, per esempio abbiamo sempre detto che una maggiore collaborazione tra istituzioni e privati può sopperire alla mancanza di risorse pubbliche, istituzioni, imprese, banche. Quindi fare meno conto dei soldi pubblici, che ce ne sono per definizione sempre meno, e mettere in campo le energie private su progetti intelligenti. Questo io penso che si possa fare. È inutile pensare che nei prossimi anni avremo fondi pubblici in abbondanza, non ce li avremo. Allora dobbiamo in qualche modo organizzarci. Voi avete in questa situazione, so che è sempre molto attente, avete creato qualche situazione particolare, qualche aiuto particolare, non so, per i giovani, per le famiglie che si formano adesso, qualche cosa che aiuta. Sì, c'è sempre sul paniere diciamo prodotti per questo o per quella esigenza. Pensiamo al turismo, per esempio, nei confronti del turismo, che riteniamo una delle strade, per lo sviluppo della nostra regione, stiamo facendo moltissimo, noi come le altre banche. Ah sì. Ma come per il turismo anche per altre categorie, chiaramente. Quindi tornando un momento alla, credo giusta, pressante preoccupazione del presidente Casali, lei può lanciare un monito di tranquillità? O è vero che chiuderete per... Guardi, le dico questo, non voglio mai parlare di noi perché non è elegante, però noi abbiamo convocato per lunedì prossimo le associazioni di categoria, i confidi, proprio perché vogliamo affrontare questo tema. Insieme faremo dei programmi per poter arrivare a fine anno e con i fa bisogno di fine anno, tranquilla, non dico tranquillamente perché oggi nessuno è tranquillo, però in modo tale che non si faccia mancare risorse. Il confidio è una bella organizzazione. Assolutamente, importantissimo in questo momento. Quali sono i rapporti tra banche qui nelle marche? Ma direi siamo concorrenti ovviamente, soprattutto in questo momento su fronte a raccolta perché siamo accaniti per portare a casa risorse, però devo dire che collaboriamo anche in maniera molto seria, tra direttori ci vediamo spessissimo, e di fronte a progetti e a iniziative importanti spesso le facciamo insieme. Io torno sempre a cercare il motivo di queste cose perché, come ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, noi siamo il soggetto di un attacco, di un attacco naturalmente psicologico eccetera, e la psicologia torna sempre anche nel mio piccolo mondo, quell'esame che facevo a me stesso, no? Non compri, potresti comprare le cose che avevi che costavano tre, adesso potresti comprarne tre invece di uno, non lo fai. Qual è questo tarlo psicologico secondo lei? È la concorrenza europea, negli altri stati? Ma io non credo, non credo. Io credo che c'è una buona dose di speculazione che chiaramente attacca i paesi più deboli, però se non vogliamo essere deboli dobbiamo reagire. La chiave di volta è, non dico in tre anni, in 15 giorni, fare quelle cose che il governo ha promesso, che vanno fatte, assolutamente, e sono convinto che se le facciamo i mercati reagiranno positivamente e lei ricomincerà a comprare le azioni. Quindi domani mattina devo andare a comprare qualche titolo di Stato? Magari il nostro, il titolo di Stato e le nostre azioni. Sentito, magari i nostri. Però anche il titolo di Stato. La ringrazio molto, come sempre è stato molto esauriente e lei è sempre presente. So che veramente la banca sta raggiungendo un buon lavoro, lo vedo anche dai nostri clienti, vengono da voi assistiti, seguiti, eccetera. Grazie di nuovo. Grazie a te gli spettatori e rivederci alla prossima settimana. Rivederci a tutti.